5 anni sfidanti, 5 anni impegnativi, grande emozione sul finale perché quando si lavora in squadra lasciare sempre da un certo punto di vista un dispiacere, ma 5 anni molto importanti, 5 anni nei quali abbiamo fatto progetti, abbiamo sostenuto le imprese, abbiamo sostenuto il territorio, abbiamo ragionato soprattutto dal punto di vista dello sviluppo, perché questa è una cosa fondamentale in un territorio come il nostro che fa della ricerca, dello sviluppo, dei nuovi modelli di business e della tecnologia uno dei suoi asset portanti. Abbiamo ragionato molto anche sull'attrattività del territorio sfruttando l'abbrivio della Varese Sport Commission per portare persone sul territorio, territorio che oggi può dirsi un territorio attrattivo anche dal punto di vista turistico. In questi anni la Camera di Commercio di Varese è arrivata alla ribalta nazionale per tanti aspetti? Sì, lo dico con orgoglio perché è stato un lavoro di squadra, ma progetti come la Varese Sport Commission, il sostegno alla cultura, i nuovi modelli di business e tante altre cose che abbiamo fatto sono state prese ad esempio a livello nazionale da altre Camere di Commercio del nostro Paese e questo ci rende estremamente orgogliosi perché il nostro è un territorio all'avanguardia da tanti punti di vista, lo ha dimostrato nel pieno delle sue competenze.